Sono ore decisive per l'inchiesta sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni deceduta lo scorso 3 maggio, stritolata dall'orditoio al quale stava lavorando nell'orditura Luana in via Garigliano a Oste. La procura ha ricevuto nel tardo pomeriggio di ieri la perizia firmata dall'ingegnere Carlo Gini, il consulente a cui ha affidato l'incarico di verificare lo stato del macchinario, ricostruirne il funzionamento e definire la dinamica dell'infortunio costato la vita alla giovane donna, di un bambino di 6 anni. La perizia nelle prossime ore sarà messa a disposizione degli avvocati dei tre indagati, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolare gestore di fatto dell'orditura, e Mario Cusimano, manutentore del macchinario, e anche di Andrea Rubini, consulente della famiglia della vittima. Nelle pagine di ricostruzione di quanto accaduto il 3 maggio viene confermata l'assenza dei dispositivi di sicurezza e in particolare della saracinesca, che garantisce la distanza tra il lavoratore e il subio. Subio che, sempre stando a quanto trapelato, girava a forte velocità quando Luana Dorazio è stata agganciata e inghiottita. L'orditoio, con il corpo dell'operaia incastrato, avrebbe fatto almeno un paio di giri e si sarebbe fermato dopo una decina di secondi, forse per l'intervento di qualcuno che si è reso conto dell'accaduto e ha azionato l'interruttore. Gli indagati sono accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. La chiusura delle indagini sarebbe ormai a un passo. Venerdì prossimo la Guardia di Finanza consegnerà anche l'analisi economica sugli effetti della rimozione dei dispositivi di sicurezza. La Procura ha chiesto infatti di accertare quanto ha pesato sui bilanci dell'orditura Luana la manomissione operata sul macchinario.